Ben ritrovati? È giunto il momento del secondo test. Oggi lavoriamo e vi proponiamo un secondo test. Siamo sulla stessa linea di condotta del primo test. Cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere alla prova il nostro allenamento del nostro orecchio. In questo tempo, in questi incontri che abbiamo fatto, abbiamo cercato sempre di sviluppare la nostra capacità d'ascolto. E quindi riproviamoci. Sempre un test non ricco di tante domande. Poche, alcune già proposte e una nuova o perlomeno di un video recente. Organizziamo il tutto. Lavoreremo su un brano di Antonio Vivaldi. In particolar modo sul Domine Deus, che è una parte tratta da Gloria di Antonio Vivaldi. È un brano vocale e strumentale. Vi proporremo quindi tre domande, tre quesiti, dove poter mettere alla prova il nostro allenamento, in questo caso. Le domande sono sempre legate a un aspetto di confronto, o perlomeno. Vi chiederemo quindi di analizzare il tempo, binario o ternario, il modo, maggiore o minore, e l'aspetto nuovo, o perlomeno non ancora proposto nel test, se il canto è monodico o polifonico. Facciamo un mini ripasso, poi ovviamente vi suggerisco e ve lo suggerirò anche nell'aspetto grafico di questo video di rivedervi magari i precedenti video in relazione a questi argomenti. Però adesso facciamo un brevissimo riepinomo, binario e ternario, vi ricordo, che indica proprio la scansione o in tre o in due, dove avete un tempo forte e uno debole se è binario, uno forte e due deboli se è ternario. Ricordatevi sempre nell'ascolto di puntare ad analizzare proprio il tempo forte come primo aspetto istintivo e poi di analizzare quanti deboli ci sono tra uno forte e l'altro. Per il modo, maggiore o minore, parliamo sempre del carattere del brano. Quindi se è maggiore allegria, serenità, tranquillità, eccetera, 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 se è minore tristezza, malinconia, eccetera. Una raccomandazione sempre è ascoltate il carattere, non la velocità. La velocità non influisce sul modo, sul carattere. L'ultimo aspetto riguarda monodico o polifonico. Ecco, qui concentratevi sull'ambito vocale. Avrete voci femminili e voi dovete analizzare non quante persone, ovviamente, ma quante melodie vengono eseguite contemporaneamente. Se sentite che tutte le voci cantano un'unica melodia, è monodico. Se sentite che vengono sovrapposte da due a più melodie, è polifonico. Ultimo consiglio. Visto che il brano prevede un'alternanza tra parte strumentale e parte principale vocale, il mio consiglio è, nella parte strumentale, concentratevi sulle due aspetti del tempo e del modo. E dedicate totalmente la vostra attenzione, la vostra concentrazione, alla domanda del monodico o polifonico quando c'è la voce. Buon lavoro e buoni risultati. Alla prossima. 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 Alla prossima.